Benvenuti a pallonata bici istruzioni, palloncino b-body, calcoliamo circa cinque dita e facciamo una torsione, comprimiamo l'aria, prendiamo la punta e andiamo a girare tutto tutto, blocchiamo in questo modo, palloncino 260 nero gonfiato a circa cinque dita, prendiamo i due nodi, dei palloncini e li leghiamo in pieno, facciamo una torsione intorno a questo punto, stessa cosa dalla parte opposta, facciamo una torsione, passiamo un palloncino all'interno, in questo modo, ora 4 piccole bolle di due dita all'una, una, due, tre e quattro, blocchiamo, pallina di due dita, torsione all'orecchio, comprimiamo l'aria, prendiamo la punta e facciamo un anello, leghiamo intorno alla torsione all'orecchio e ci teniamo al di sotto della torsione all'orecchio. una volta completato il nostro pappagallo, prendiamo un pennarello della sciarpe e disegniamo l'occhio del pappagallo, stessa cosa dalla parte opposta, ecco completato il nostro pappagallo, alla prossima, ciao!